Giornata triste, giornata triste oggi a Milanello per la tragica scomparsa di Sergio Mascheroni. Sergio Mascheroni a lungo a Milanello, nello staff di Daniele Tognaccini, uno degli apprezzati ragazzi che curavano la preparazione dei giocatori del Milan, passato con Ancelotti, con Allegri, con gli allenatori che hanno fatto la storia del Milan. Lo conoscevamo, lo conoscevamo bene, l'abbiamo visto tante volte a Milanello, uno dei tanti ragazzi seri applicati, magari non conosciuti dal grande pubblico, ma ha una valenza assoluta. Era passato allo staff di Giovannino Stroppa, prima al Foggia, poi al Crotone, è scomparso tragicamente per un incidente, mentre era, così ci hanno detto, a una battuta di caccia, un tragico incidente, e dunque una giornata molto triste a Milanello. Parliamo anche però dell'allenamento di oggi, stanno crescendo in maniera esponenziale, sta crescendo in maniera esponenziale la possibilità che sia Leao al centro dell'attacco con Rebic, che torna al suo ruolo preferito, e Susu. Mi sembra una decisione molto saggia e intelligente da parte dell'allenatore Giampaolo, che finalmente andrà a valorizzare Rebic nel suo ruolo dal primo minuto, metterà Leao nel suo vero ruolo, ha realizzato un gol splendido, ha giocato in maniera sempre positiva, perché Leao potrebbe essere uno dei grandi giocatori futuri, proprio quelle figure che piacciono all'ambiente del Milan. Giovane, preso a una cifra già importante, ma che potrebbe essere ulteriormente aumentata dalle qualità del giocatore. Quindi andiamo verso un Leao, dispiace per Piontek, ma Piontek praticamente si è perso dal maggio scorso, dal maggio scorso l'ho sottolineato più volte, io non sono assolutamente prevenuto, amo tutti i giocatori del Milan, ma in questo momento, ma da diverse settimane, nelle amichevoli, nel finale di stagione, io avevo già detto che mi preoccupava l'involuzione di Piontek, non so se per questioni di allenatore, ma l'anno scorso c'era Gattuso, non so quali siano le questioni che fermano, ostacolano in questo momento le prestazioni di Piontek, certamente gli dispiacerà mille volte in più non giocare nella sua Genoa contro il suo Genoa, però il Milan sinceramente in questa situazione, questa situazione è difficile, non voglio usare aggettivi più forti e più antipatici, in questa situazione è difficile, non può più aspettare nessuno, in questo momento non può più aspettare nessuno. L'allenatore Giampaolo deve mettere in campo 11 giocatori, pugnaci, che sanno, che non tremano, che sanno come muoversi e poi a poco a poco reinserire quelli che adesso stanno facendo un pochino più fatica, ma in un contesto. Sono molto curioso di vedere l'Ao centrale, se verrà confermata questo rumor, questa idea di Milanello, sono molto curioso di vedere Rebic a sinistra, un Milan vero con tutti i giocatori, non è il 4-3-1-2 che vuole Giampaolo, ma tutti i giocatori al loro posto. Ora c'è da recuperare anche Paquetà, che in questo momento, col momento un po' difficile di Cialanoglu, che pur aveva giocato bene a Torino, ma è stato risucchiato dalla brutta prestazione contro la Fiorentina con due passaggi veramente non suoi, non da Cialanoglu, e allora potrebbe esserci la volta di magari il ritorno di Biglia, centrale, con magari Benasser, piuttosto che Kessio-Krunic e a sinistra Paquetà. Insomma ci saranno tanti cambiamenti a centro di difesa Duarte con Romagnoli, vedremo, Calabria è intoccabile in questo momento, se daranno spazio ancora a Hernandez o al più equilibrato Riccardo Rodriguez. Insomma un altro aggiustamento, ma necessario. Piontek non si poteva più aspettare, è un Piontek che fa fatica sul piano dello scontro fisico, sul piano del dribbling, non tiene palloni, è veramente in un momento difficile e complicato, ma che purtroppo si prosegue, si diceva che quest'estate non riusciva a recuperare dagli allenamenti, va bene, però ormai siamo a ottobre e la situazione non è mai cambiata. Leao centrale, vedremo, un giocatore molto interessante, uno potrebbe essere uno dei crack di questo campionato italiano. Rebic, un vice campione del mondo, giocatore tosto, giocatore pugnato, giocatore pugnace da carisma e quindi un altro giocatore da mettere in quel posto, in questo momento da quel posto all'Ia sinistra e quindi in un posto importante per la manovra offensiva del Milan. E dunque queste forse le intenzioni di Giampaolo e c'è da cambiare, bisogna prendere i più pugnaci, i più carismatici, i meno, in in questo momento meno avvolti da quest'aurea negativa, da quest'area negativa. E dunque forse Piontenk in panchina, Leao, idolo, scendi chi parla, Leao, l'Adamanti. Se vi è piaciuto questo video mettete il nostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pelletti.